ciao a tutti carissimi amici faccio questo video per dirvi una cosa ragazzi è la festa continua ragazzi è la festa continua pensate un po ragazzi pensate un po che oggi appena uscito da lavoro stavo tornando a casa e sono sparati questa canzone perché adesso ovviamente sono sulla chiavetta e sono tutte le canzoni del nostro scudetto che è sparata a mille ma c'è una bomba ma la parte più bella la parte più bella la parte più bella quella è la parte più bella faccio tu sei mi sono sempre madonna come sto guagni allora ragazzi sto carico a pallo sto carico a molla proprio a molla e sapete perché perché oggi è un grande giorno ragazzi è un grande giorno da dinza la chiacchiera guagni sono state a vedere a leggere preoccupazioni ma chissà come sarà di qua di là no 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 questo è un grande giorno ragazzi ma avete sentito l'intervista degli ed jerry cardinale madonna c'è personaggio che madonna non so non lo so ragazzi non so che che impressione avete avuto voi io ho avuto un'impressione impressionante un'impressione madonna poco qui d'accendo di madonna never never done responsibility and honor ho proposto guagni la frase responsabile ma l'ho scritto perché non è una cosa responsabile di privilege and honor responsabile di privilege and honor madonna quando ha detto da che c'è Roma biglietti madonna c'è Roma biglietti guagni c'è Roma biglietti voglio essere il custode di questo che è un custode voglio essere un custode di questo club portare questa squadra ad un livello ancora più alto consono alla storia che è esposta qui al museo quando ha visto il museo ha detto wow wow capo sono l'orsa prendere già questo è wow mio zio pace all'anima sua zio angelo di chav sempre di chav sempre l'americano parla che lo fa e io vedo quando ho parlato di chav sempre non lo paro ma è bello ti incanti ti incanti a sandile è bello a sé parlami gerry madonna sand parlami mafè marè mafè marè mafè marè ragazzi mi è piaciuta se poi alla fine quella dita c'è scritto and finally forza milan sempre che altro mi vuoi dire madonna mi piace raccattami qualche io fai qualcosa di enorme fai qualcosa di enorme katveshk ti vedevo brillare i tuoi occhi brillavano quando vedevi quelle coppe sei andato lì in in piazza duomo per per goderti la festa da tifoso e si visto qualcosa di ho detto i never seen una cosa del genere mi hai visto ogni detto fra noi una cosa del giallo ha detto io ho visto il super bowl ho visto l'nba ho visto l'nfl nnclle le fricche ma che mafè mafè ma quando ha visto che da scena ha detto io non ho mai visto una passione così smisurata ha detto noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei milanisti dei milanistas mafè marè madonna ha detto che non vado l'ora non vado l'ora di fare parte di quando fai che l'execchia vuoi dire che è una sorta di me mafè marè guagni sono venuto qua per fare questo video perchè sto carica a palla carica a palla stavo adesso prima me ne sono dimenticato stavo tornando da lavoro con la canzone più lì sono fire mentre mi stavo venendo guagni stavo in un interesse che conosco tra l'altro un caro amico lui non ha visto che ero io sicuramente però se senti passi che la finestrina va scelta con questo volume a palla più lì sono fire ma devo trovare come già paghietta mia madonna però è bello guagni mi raccomando andate in giro a testa alta petto in fuori che la maglia di Milano è un beat che è bello a sé guagni che è bello a sé orgogliosi di voi ragazzi orgogliosi di voi poi ho visto avete visto quella foto con Paolo Maldini guagni quella foto con Paolo Maldini era più lui che rimaneva impressionato a guardarlo che viceversa Edgmangereb Edgmangereb ci aveva davanti una leggenda vivente del calcio guagni qualcosa di straordinario Franco Baresenzim Lele Massaro madonna guagni poi non lo so ragazzi andiamoci cerchiamo diciamo adesso di concentrarci speriamo che facciano veramente un bel lavoro un buon lavoro però ragazzi io penso che questi siano in grado di fare qualcosa di davvero importante poi sicuramente dobbiamo vivere la cosa come un salto di qualità perché ovviamente noi adesso avevamo Elliot come proprietario adesso abbiamo una sorta di partnership con Jerry Cardinale e Redbird a capo del nostro club e comunque sia Elliot che tanto bene ha fatto fa parte ancora di questa società con i suoi membri con un CDA veramente di altissimo livello abbiamo veramente ragazzi una società veramente che può fare davvero davvero grandi cose quindi speriamo che possano davvero lavorare tutti quanti all'unisono perché veramente abbiamo un 11 spavendoso e quando parlo di 11 spavendoso non parlo in questo momento di calciatori ma parlo veramente di una squadra dirigenziale davvero di altissimo livello quindi speriamo veramente bene ragazzi perché è bello è bello guagni è bello è un grande giorno questo qua guagni è un grande giorno sono detta ma sensazioni sensazioni stog carc guagni è stog carc e ve lo volevo dire sono carico a palla e ve lo volevo gridare ve lo volevo ve lo volevo gridare guagni è che altro dirvi vi voglio bene cliccate il tasto grazie se volete sostenere questo canale lasciate un like che è importante sempre e comunque iscrivetevi se non l'avete ancora fatto non vi costa niente è gratuito ed è importante che altro dirvi abbonatevi se invece volete veramente sostenere sempre il club insomma al di là di quel non il club un cristiano insomma detto questo ragazzi vi voglio bene a sé vi saluto forza lotta e vincerai non ti lasceremo mai dal 1 euro dal